Questo è un video extra e chi mi segue sulla mia pagina facebook sa la storia di questi biscottini. E finalmente ecco la ricetta per 36 biscottini chiamati da me peccati di gola visto che biscottino alla nutella dice poco della golosità di questi biscottini. Per farli in una ciotola mettete 300 grammi di farina aggiungete 360 grammi di nutella 2 uova e 30 grammi di gocce di cioccolato. Mescolate adesso il tutto fino ad ottenere un impasto liscio. Pesate e dividete l'impasto in 36 piccole palline di 27 grammi circa. Appiattitele. Mettetevi mezzo cucchiaino di nutella ogni disco. Chiudete su se stesso il biscotto questo è il consiglio di Sidia. Ecco quando lo chiudi auguri. Ha chiuso da sopra o sotto? Ti un ne vuoi perché tanto ne esce da qualche parte. Ah ok ecco esattamente. Tu fallo completamente a caso tanto anche se esce niente ci fa. Adesso è infornata a 170 gradi per 14 16 minuti. Eccoli sfornati. Fateli raffreddare sulla teglia se non volete bruciarvi. Guardate qua una goduria. Alla prossima ricetta.